Con il FAI per tutelare i luoghi del cuore, beni culturali, palazzi, parchi, borghi, quelli che gli italiani amano di più e vorrebbero vedere valorizzati. Isabella Schiavone. C'è Bergamo Alta con le sue vie strette e tortuose, arroccata sul colle di San Virgilio, poi l'eremo di Santo Nofrio al morrone di Sulmone e il bacino del Rio Grande ad Amelia. Sono i primi tre luoghi del cuore, emersi dal censimento del FAI ad inizio maggio, quelli che gli italiani amano di più e vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. Ma non sono gli unici. C'è la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, realizzata quasi due secoli fa, unione tra Italia e Francia, Monti e Mare, pianura e costa. C'è il borgo di Monesteroli, in Liguria. Per raggiungerlo bisogna salire quasi 2000 gradini, passando per boschi e vigneti. Luoghi da salvare, proteggere o semplicemente da valorizzare. 119 i progetti di recupero del FAI fino ad oggi in 19 regioni. Grande new entry, il castello di San Mezzano in Toscana, struttura orientalista unica nel suo genere, riconosciuta da tutto il mondo come un edificio culturale di bellezza straordinaria. Da anni in stato di decadimento potrebbe diventare una struttura ricettiva. Molti italiani seguono le sue vicende con il fiato sospeso. Si intitola Reino Milano.